Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPI-Li. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra Poggi Bonzi e Colle di Valdelsa Sud in direzione Siena con conseguente chiusura dello svincolo di Colle di Valdelsa Nord. Sempre per lavori scambio di carreggiata tra Colle di Valdelsa Sud e Monteriggioni ancora in direzione Siena. A Firenze per lavori di asfaltatura nella zona di Piazza Dalmazia da domani fino al 14 settembre cantieri notturni in orario 21.6 con chiusure di Piazza Dalmazia, via Carlobini e via di Rifredi e restringimenti in orario diurno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!